questa è una facettura che fai a calcio questo è un dito che è infortunato io prendo il mio kerot che è disastrato dopo la lunghezza la vari poi io la faccio uso tutto per non stare a buttare non voglio che passione non è lo slalo di largo guardami non sento le signate sullo slalo voi fatelo bene? avanti vieni vieni dai vieni che serve? dai dai vieni dai vieni 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 questa è una fasciatura per quando hai un qualcosa che ti è successo se questo è diciamo il dito adesso già è bloccato bloccato e nemmeno gli fa fa tanto movimento laterale forze giunture ok